appassionati di gossip tv bentornati nel mio canale oggi parliamo di irama e della squalifica a causa della positività dal covid di un membro del suo staff come ormai saprete irama è stato sottoposto a tampone ed è risultato negativo ma da regolamento gli è stato impedito di cantare durante la prima puntata del festival di ieri sera il suo posto è stato preso da noemi in attesa di nuove comunicazioni da regolamento lo avrebbero dovuto squalificare in quanto la positività del membro dello staff di irama è stata confermata anche da un secondo tampone ma amadeus a poche ore dalla diretta è riuscito in qualche modo a salvare la partecipazione del cantante al 71esimo festival della canzone italiana amadeus ha infatti chiesto agli altri 25 big se per loro irama avrebbe potuto continuare a gareggiare con un video registrato lunedì durante le prove e tutti hanno acconsentito dopo tutto tutti i cantanti in gara possono essere a rischio di eliminazioni per motivazioni simili ed un po di solidarietà non guasta irama questa sera non canterà ma vedremo comunque la sua esibizione registrata durante le prove e potremo ascoltare la sua canzone irama si è detto dispiaciuto per non poter salire sul palco anche perché durante le prove non si dà al massimo e non era vestito da gara allo stesso tempo si è detto molto grato ad amadeus e agli altri cantanti per aver consentito questa modifica del regolamento in corsa il festival di sanremo ai tempi del covid deve fare i conti anche con situazioni simili oltre che con un importante calo degli ascolti e con l'assenza del pubblico in sala e voi cosa ne pensate avete guardato il festival questa sera lo riguarderete fatemi sapere la vostra canzone preferita nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale al prossimo video ciao